L'uomo ha fermato dopo un mese di indagini, appostamenti e pedinamenti grazie anche a intercettazioni ambientali e all'utilizzo dei filmati del circuito di sorveglianza. Alla fine un camionista straniero originario del Portogale è stato fermato e tratto in arresto. L'uomo è accusato di violenza sessuale nei confronti di alcune donne, clienti di un centro commerciale del Veronese. Almeno tra gli episodi incriminati, quelli che sono stati denunciati dalle vittime. Ma il sospetto è che i casi siano a molti di più e non solo in Veneto. Anche perché il camionista ha dei precedenti specifici nel suo paese d'origine. Ad incastrarlo sono stati soprattutto i filmati delle telecamere di sorveglianza, dove lo si vede entrare prima nel centro commerciale, poi posizionarsi nel parcheggio sotterraneo alla ricerca delle vittime. Don intente a entrare in auto. Dopo averle avvicinate le palpeggiava in modo anche violento nelle parti intime. I carabinieri lo hanno bloccato nell'area riservata al parcheggio mentre stava salendo nel camion per ripartire. Ora dovrà rispondere dell'accusa di violenza sessuale. Grazie.